e che è il tour organizer dell'Italpa dei Castati Romani, è nata questa collaborazione in rete quindi l'importanza della rete l'ho testata in prima persona. Arrivando poi, ritornando poi in Italia, c'è stata partita l'esperienza con l'Italpa e con un tanto di vista civica nel primavera del 2010 e oggi eccomi qui. Col tempo ho capito quello che significa veramente l'attivismo e far parte di un movimento come è il Movimento 5 Stelle ovvero un lavoro fatto in rete e che riguarda tutto ciò che è proposto e tutto ciò che è alternativo rispetto al sistema marcio totalmente marcio che ci ha portato allo Stato civile.